Sotto i neri tassi che li ospitano, i ufi stanno come dei esotici, schierati tutti in fila, saettando a tratti l'occhio rosso. Meditarò. Senza muoversi così staranno fino all'ora malinconica, quando spingendo via l'obliquo sole, le tenebre si stabiliranno. Al saggio dice il loro atteggiamento che a questo mondo deve aver paura del tumulto e del movimento. L'uomo attratto da un'ombra che si sposta, paga sempre con pena sicura d'aver voluto cambiare di posto. Grazie. 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 Grazie.